I commercianti del centro storico di Teramo si riuniscono in un consorzio ed elaborano alcune proposte di rilancio del commercio nel cuore della città da presentare all'amministrazione comunale. Futuri lavori di manutenzione sì, ma veloci, nuovi parcheggi sempre più centrali, illuminazione dei corsi omogenea e cromatica. La presidente del consorzio shopping in Teramo Centro, Daniele Aciarrocchi, spiega nel dettaglio le richieste degli operatori del settore. Innanzitutto per noi rivalorizzare il centro, il centro storico, dare vita al centro storico caratterizzandolo con i nostri prodotti tipici, quindi per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda tutte le nostre tradizioni. Noi veniamo da lì e quindi è importante anche dare forza alle nostre tradizioni. Voi chiedete anche un sveltimento dei lavori di rifacimento del corso dei Michetti? Sì, proprio per evitare il disagio che abbiamo avuto noi per quasi due anni, anzi forse anche più di due anni, cerchiamo di chiedere uno sveltimento, un alleggerimento dei lavori a corso dei Michetti e soprattutto cercando di mantenere un allestimento urbano consono, quindi i sanpietrini, lasciare i sanpietrini, rimettere i sanpietrini. So che bisogna togliere le barriere architettoniche, è benissimo, però nel momento in cui vengono abbattute le barriere, cercare di usare una pavimentazione che abbia una continuità con il corso Cerulli. Adesso con il corso nuovo le cose vanno un pochino meglio? Allora, diciamo di sì, perché le persone piano piano si stanno riabituando a tornare al centro. Abbiamo chiesto però per il corso di avere un'illuminazione più consona, quindi anche l'illuminazione cromatica, quindi non forse un'illuminazione troppo fredda o potenziare l'illuminazione, anche il decoro urbano, quindi continuare con la progettazione, mettere le panchine, tutto quello che era stabilito per abbellire il corso.